Ciao a tutti, siamo qui con Enrico Niggiotti. Enrico, presenti quest'anno sul palco di Sanremo il brano Baciami adesso. Come è nata questa canzone e cosa significa per te? È una canzone che parla di me, è una canzone molto intima, semplice. L'ho deciso di portarla perché volevo portare una cosa diversa da quella che avevo portato l'altro anno. Poi il fatto di averci la chitarra era anche un elemento in più, insomma, è un'altra parte di me che il mio pubblico conosce ma volevo presentare anche a Sanremo. Appunto, hai citato Nonno Hollywood, è il secondo anno consecutivo che partecipi a Sanremo, cioè hai preso gusto quindi in un certo senso. Che cosa ti piace del festival e soprattutto di questo festival? Ma in generale per me è sempre uguale, nel senso che la cosa del festival è che è una pubblicità grande, quindi ci vai fondamentalmente per farti pubblicità, per sponsorizzarti. Quindi, insomma, andarci nei due anni consecutivi è quasi un privilegio, quindi è una cosa molto rara, molto difficile. Sono contento di esserci. Questa sera canterai con Simone Cristicchi. Perché la scelta di questo brano e di duettare con lui? Sì. Ho scelto di duettare con Cristicchi perché ha scritto un capolavoro e volevo presentarmi sul palco di Sanremo con le due vesti mie comunque, che è un po', penso che questa veste qua è un po' simile a quella dell'altro anno, un pochino più riflessiva, diciamo, che prende un po' quel campo emotivo che forse è più drammatico, tra virgolette, no? Quindi volevo ripropormi in quella veste lì. E com'è Enrico, lontano dai riflettori? Quindi cosa mi fare di più? Ma io amo la tranquillità, fondamentalmente. Mi piace la tranquillità, la semplicità delle cose e basta. Qua è difficile trovare la tranquillità, però è il gioco, è il prezzo da pagare per far Sanremo, quindi comunque cerchè di rimanere concentrato. Tra gli artisti italiani e stranieri c'è qualcuno che ti piace maggiormente e con cui ti piacerebbe magari collaborare? Guarda, ho avuto la fortuna di collaborare con l'Ananini in un altro disco e in questo con Panariello che fa, che recita un monologo, che è una canzone che si chiama L'ora dei tramonti. Quindi per adesso direi che mi possa accontentare. Stasera l'ho detto con Cristi, che sono estremamente contento, quindi per adesso mi accontento. Quello che succederà, succederà. Grazie mille, grazie. In bocca al lupo. Grazie.